ciao ragazze ciao a tutte e a tutti un altro nuovo video come vi avevo promesso prima quando stavo facendo il video svuota la spesa spesa con mia nonna allora questo video svuota la spesa voleva essere un video bello che mi è piaciuto e invece un altro questo che sto facendo adesso video di assaggi aspettate un attimo ok eccomi qua allora come video assaggi sto per assaggiare queste patatine qua al cocco gusto live non so ancora come siano perché non ho provate e non so niente quindi sono stata brava perché non vediamo l'ora di assaggiarle con voi e le assaggerò con voi in diretta intanto comunisco di queste perché non si sa mai che non mi piacciono e quindi andiamo subito al dunque allora queste sono 100 grammi di prodotto ecco qua vedete c'è anche i social vedete dove sono i social facebook instagram youtube facebook 100 grammi di prodotto ecco qua adesso vado a assaggiarli io vi saprò dire come sono aiuto ho paura sono fatte così non sono per niente ma non si sente neanche neanche il cocco non te l'ho detto neanche boh no devo dire la verità non si sente niente nel cocco ma un po di lime si sente di limone normale semplice patatina ragazzi non so che dire come queste patatine non ce l'è non si sente niente nel cocco ma anche se sente niente nel cocco ma anche se sente niente non si sente niente nel cocco ma i lime si non so perché boh vabbè diciamo per dettagli buone 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 bu è quasi uguale di cena sudate vi dicevo è quasi uguale di cena e io sto mangiando adesso vabbè non commento i dettagli comunque buonissime l'ultima patettina vedete e poi è caduto qualcosa stendetela era caduto questa scatola di veline ma non vi preoccupate perché nei miei video se non c'è danno non è un video vabbè dettagli e nulla non è male che è l'ultima che dire ragazze e ragazzi io vi saluto perché la recensione era piccola minuscolissima con non so quanto tanto mi sono tutta bella insozzata ma vabbè io vi saluto vi ringrazio per l'ascolto e soprattutto vi ringrazio per avermi sopportato e supportato in primis supportato supportato che vale a dire con un like ma anche sopportato perché ce ne vuole sopportarmi quando faccio lunghi video quanto una quaresima aiuto se lo posso fare allora queste sono cocco loco edition non so come se la voglio dire ma vabbè le leggo qua vabbè scrittura le vedo a rincontrarmi le vedo al ditto loco edition edition vabbè edizione limitata e mi piacciono davvero tanto non le comprerò più perché ragazze mi piacciono gli originali ovviamente però non ti sdegno anche questi non sono malaccio devo dire la verità non si sente ribadisco non si sente il cocco ma neanche tanto il lime il lime è un po' di più il limone ma non tanto si sente sempre il come dire il il formaggio perché il formaggio è ovvio se no che patatine sarebbero ecco qua sono rimasta qua vedete non so se si possa vedere aspettate un po' di e niente io aspetta vi dicevo io vi seguito ringrazio per l'ascolto un bel like mettete iscrivetevi senza forzatura di iscrizione perché non mi interessa che vi iscriviate per accontentarmi per dare un contentino no non ci sto però se vi iscrivete perché vi fa piacere perché vi sto simpatica perché avete avete capito che io sono una persona brava in gamba va bene ma altrimenti va bene così anche solo per guardarmi e così mi sta bene va bene ma se fai una iscrizione così tanto per fare il numero no non mi sembra giusto quindi nulla ragazzi questo era tutto gli haters chi se ne frega va bene tagli fonsis buonissimi ribadisco questi sono 100 grammi di patatine e c'è anche scritto sì basta io vi saluto con una patatina in bocca e vi auguro buon prossimo momento di serata ciao ciao e per la campanella attiva la campanella ciao ciao